Grande successo per il Mamma Dei a Policastro Bussentino, organizzato dalla polisportiva Cilento ASD, in collaborazione con il dojo Karate Piros del maestro Vincenzo Guzzo. Presente anche la protezione civile e l'associazione Carmine Speranza Onlus. Una manifestazione all'insegna del divertimento a contatto della natura senza dimenticare la solidarietà. Infatti era in vendita la zalea dell'AIRC per la ricerca sul cacro. Della giornata ci ha parlato Francesco Arena, ricampione di canoa e allenatore. La prima volta che organizziamo questa edizione del Mamma Dei, in realtà è la seconda giornata in canoa Open Day, per far conoscere questo sport che non è tanto conosciuto nel golfo. Paradossalmente siamo più conosciuti a livello nazionale che a livello locale. Stiamo dando la possibilità a tutti i bambini di provare, perché è uno sport che sta a contatto con la natura, si definisce tranquillo e facile per tutti.